Pubblico in delirio e teatro al concreto a Savona per il concerto di Franco Bacchiato. Per conoscere qualcosa di più perché il più delle volte ci sia passione in questo modo, non si sa tanto e si viene a sapere tanto. La notte nel sonno. Che siamo angeli caduti in terra dall'eterno senza più ricordi. Per secoli, per secoli, fino a completa quattro giorni. Sono emozionata sempre quando voglio vedere Bacchiato. Quando vedo i miei concerti di Bacchiato è sempre fantastico, è un po' grande. Viglioso, riallangiamenti favolosi. Lui è ancora un enorme interprete, una pietra migliare della musica mondiale. Assolutamente. Assolutamente.